sto parlando con lui ma non puoi sentire non so perché dice che solo parla siciliano alzare il volume non si può crudo arresto è un attore famoso ha fatto molti film e questa è la prima volta che ho avuto con lui ma tu hai fatto altri film o? no solo questo e quante parti hai fatto in questo film? due parti pizza connessione eccolo qua questo è il migliore punto quando faccio la mano guarda il mio ora sto parlando il posto olè olè cosa vuol dire che ti parlando il posto? sto parlando il posto guarda guarda caffè palermo e dove è ambientato? qui a metter l'italia in che anno? diciamo che un due 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 e mezzo due e mezzo boom yeah non vuol caffè palermo pizza connessione pizza connessione davide tutto ok zzzzzzzzz